Salve, oggi potenziamo la nostra GPU, ovvero la scheda video, semplicemente attivando un'impostazione in Windows, così da permettere la gestione della memoria VRAM in modo diretto, menu start, impostazioni, cerchiamo schermo, poi grafica e infine modifica le impostazioni grafiche predefinite, attiviamo questa opzione, perfetto, da oggi in poi la nostra scheda video sarà molto più performante.